Cuoli Nerazzurri, un saluto da Roberto Scherpini, siete collegati con lo stadio Giuseppe Meazza per il posticipo della quindicesima giornata di campionato, non è una parida come le altre, trattasi del derby. Super sfida fra Inter e Milan con il fattore campo che dice Inter in casa, Milan in trasferta. Inizia in questo momento il match, subito con una palla abbattuta lunga e che termina in out. Cucciu che fa partire una traiettoria per Obanesta, palla che si impenna Pirlo, ci arriva Verona, attenzione al limite, Dechi carica al destro il suo tiro, svirgoalato, palla che termina a lato. Svirgoalato, colpisce male di esterno, da fermo, ha cercato la conclusione, non c'è particolare difficoltà per la difesa russonera. La bruchitta, il suo cross teso all'inglese, la testa è quella di Gattuso, palla che si impenna, poi mettono fuori, cambiasso di prima, per figo, attenzione, potrebbe andare al tiro, la mette per Oba, con Martins che rovesciata, acrobatica, Adriano, il suo tiro, alto, forza ragazzi! Al minuto 11, un'azione tambureggiante dell'Inter. Rimessa effettuata con Adriano che si gira bene, salta due uomini, attenzione, carica al sinistro il suo tiro, è angolato, tanto ma troppo per trovare lo specchio grande, ma buona la manovra al minuto 16 di Adriano. Inter che allarga molto, con figo, attenzione, cerca di andare, Gattuso su di lui, deve girarsi, palla fuori per Favalli, può andare al cross in l'orde, la piazza, primo palo, Oba! La gira bene, malato, forza ragazzi! Bravo il Cuccio, si beve con una finta cacca, mette in movimento Oba, di tacco per Adriano, ancora per Oba, Oba! Salta è quasi! Ed è calcio di rigore, calcio di rigore! Per il fallo ai danni di Oba, ammunizione per Nesta, calcio di rigore in favore dell'Inter. Trattenuta, cade a terra e ferma il pallone con la mano. Attenzione, parte la rincorsa, tiro! E' gol! 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 L'imperatore! 1-0! Partiere da una parte, pallone dall'altra, ragazzi in vantaggio, 23 minuti. parte Shevchenko di potenza il tiro ribatte il muro Pirlo il tiro ribatte la difesa e poi Favalli via ragazzi via quella palla via quella palla della nostra area Dida Figo che salta a secco Stam se ne va attenzione Figo va dentro il suo tiro la parata no parte Pirlo il suo pallone muro l'arbitro ripete da rigore rigore per il Milan rigore per il Milan parte Sheva attenzione il suo tiro gol 1-1 due rigori stanno sbloccando e hanno sbloccato il match rimessa per il Milan vediamo se c'è tempo per batterla Messina guarda il cronometro e manda le squadre a prendere il tè finisce 1-1 il primo tempo con le formazioni che rientrano negli spogliatoi con un pareggio dopo i primi 45 minuti tutto è pronto per il via pallalimite per Kakà di prima per Seidorf arriva Shevchenko cerca l'1-2 Seidorf ha presso la destra per Stam può andare al cross parte la traiettoria palla dentro e Gilardino sfiora un pallone pericolosissimo parte Sergino il tiro la palla va a lato con Giulio Cesar che era lì ha cercato il colpo a sorpresa sul pallo del portiere Sergino tredicesimo parte il tiro parata è gol 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 è due opa 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 i sette passi del Mamba ancora una volta apertura sulla destra per Gattuso lo va a contrastare Favalli Gattuso arriva al limite scivola Favalli parte il cross la chiusura in calcio d'angolo primo corner del match per il Milan la chiusura di Saverio Zanetti palla recuperata dal Milan con Pirlo attenzione Dechi non farti male ripartono loro con Cacca corsia di sinistra c'è Siedor poco distante Cacca va da solo carica al destro il suo tiro c'è la deviazione palo mamma mia scema tiro fuori il tiro di Cacca trova la deviazione di testa di Samuel al limite dell'area cerca l'azione personale Verone viene saltato attenzione va in corsia Serginio il cross pericolo è una mischia sventata dall'intervento in calcio d'angolo ma il tocco finale è di un rosso nero così dice il signor Messina parte la rincorsa di Adri scivola coppa in testa di Dechi palla alta la testa di Stankovic al minuto 29 Fischia Messina parte la traiettoria palla dentro Stam gol va altissimo Japp Stam al 37esimo e la mette dentro per il gol del 2 a 2 tutti fermi i nostri Sarabia Verone la zuccata vincente di Japp Stam già a segno in un derby recupera Cambiasso il lancio lungo a cercare Adriano attenzione Adri entra in aria solo il tiro fuori clamoroso clamorosa palla gol per Adri clamorosa palla gol per Adri al minuto 42 Verone veranda la bandierina palla giro il coppo di testa e' il gol è 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 gol l'imperatore si impugniamo lì sì Sì! 3 a 2! Adriano! Adriano sì! Sì! Adriano! 3 a 2 sì! Dicono festa grande! Colpo di testa, difesa piazzata, il mancio che salta, sì! Sì! Attenzione, può andare da solo, un rimpollo, Cruz potrebbe andare al tiro, si ferma, l'avito guarda il cronometro e dice che è finita! Inter batte Milan 3 a 2! Inter batte Milan 3 a 2! Sì! Sì! Adriano! 2 gol! Opa! I marcatori del match! E festa grande al Meazza! Inter batte Milan 3 a 2!